Buongiorno, ben trovati dalla redazione di TV6. Mattino 6, martedì 26 gennaio 2016, la nostra consueta e quotidiana rassegna stampa con la lettura dei giornali. Apriamo con i Santi del giorno che vengono venerati e ricordati dalla Chiesa Cattolica. Due Santi e Vescovi, si tratta di San Timoteo e San Tito, discepoli di San Paolo. La memoria di due Vescovi delle primissime generazioni cristiane, ambedue convertiti da San Paolo e i suoi collaboratori, è stata abbinata nel nuovo calendario della Chiesa. Timoteo e Tito non erano israeliti, non appartenevano dunque al popolo eletto, ambedue perciò impersonavano il primo grosso problema incontrato dalla Chiesa nascente. Il problema era questo, era lecito entrare nella Chiesa cristiana senza prima passare dalla sinagoga ebraica. I pagani potevano essere battezzati direttamente oppure il battesimo doveva essere riservato soltanto ai circoncisi. La questione venne affrontata dagli apostoli a Gerusalemme verso l'anno 50, in quello che può essere definito il primo concilio della Chiesa. La controversia fu vivace ma San Paolo, per quanto israelita, sostenne le ragioni dei pagani convertiti. In tal senso, convinse anche gli altri apostoli e San Pietro che dette autorità alle decisioni del concilio. Timoteo era figlio di una donna israelita e di padre pagano. Egli rappresentava in qualche modo un punto d'incontro e d'intesa tra le due tendenze. Tito a sua volta era proprio uno di quei pagani della Siria che, convertito da San Paolo, era entrato a far parte della Chiesa di Antocchia. E dunque due santi discepoli di San Paolo molto impegnati proprio nella divulgazione della religione cristiana. Timoteo divenne uno dei migliori e più assidui collaboratori di Paolo, riflessivo e fedele, utile collaboratore dell'Apostolo. Fu anche Tito eloquente, ispirato, zelante e irreprensibile, importante la testimonianza di questi due vescovi della Chiesa Cattolica che tanto hanno fatto proprio negli anni tra il 50 e il 97 d.C. Dunque oggi vengono ricordati i Santi Timoteo e Tito, proprio nella giornata del 26 gennaio. Lasciamo il santo del giorno, andiamo a vedere le prime pagine del quotidiano Il Centro, le quattro edizioni. Passiamo e partiamo dall'edizione di Pescara. Ovviamente l'apertura è ancora per l'efferato duplice omicidio di domenica scorsa in Via Tibullo, nella zona Stadio. Li ho uccisi per difendermi, l'assassino di madre e figlio, racconta, avevano tentato di derurbarmi. Questa è la difesa del giovane che è stato arrestato. E poi le cronache a Montesilvano, studente, vende droga ai minorenni. E poi il monito del vescovo, l'arcivescovo di Pescara Penne, Valentinetti, che dice basta speculare sui lavoratori. E poi il testimone dell'olocausto, addio apparente, sopravvissuto all'odio nazista. In alto due titoli che riguardano lo sport. Appello dei Biancazzurri per sabato, Pescara da Serie A. Adesso serve il grande pubblico sabato, lo stadio adriatico alle 15. Grande sfida con il Bari, che è guidato proprio da un pescarese doc come Andrea Camplone. E poi il compleanno, perché Giovanni Galeone compie 75 anni, tecnico, che ha scritto delle pagine indelebili della storia calcistica Biancazzurra, con due, tra l'altro, promozioni in Serie A. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara. Andiamo a vedere tra qualche secondo l'edizione di Chieti, del Chieti Lanciano Vasto, sempre del quotidiano Il Centro. In questo caso il titolo di apertura riguarda la questione banche, tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi. Un pool DPM infatti indaga su quattro banche. Vertice segreto fa decollare l'inchiesta su Carichieti e gli altri istituti. Poi la fotonotizia di centro pagina, parco fluviale, famiglia disperata occupa lo chalet. Siamo a Chieti, a Lanciano lo rapinano dentro casa con il martello. A vasto flauto in testa l'alunno, professore condannato. E tornando a Lanciano, una notizia che riguarda lo sport, perché sulla Virtus Lanciano, nuovo spettro, penalizzazione, contributi pagati in ritardo. Ieri è arrivato il deferimento per la società rossonera, che dunque rischia fra uno e due punti di penalizzazione. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione di Teramo, poi chiuderemo con quella di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. E poi passeremo al messaggero per vedere le pagine di cronaca nazionale. Siamo però al centro edizione di Teramo. Anziani vittime di finti addetti Enere, l'allarme, entrano in casa e fanno firmare contratti capestro. E poi la sanità, l'eccellenza, in questo caso dell'ospedale Mazzini di Teramo, in neurochirurgia, interventi innovativi, anticancro. E poi le cronaca che arrivano da Teramo e provincia, chiude la Gpk a casa, gli ultimi 29 operai. C'è dunque crisi a livello lavorativo. Poi le elezioni comunali, Cavallari pronto a candidarsi, ma non con il partito democratico. E poi a Giulianova il comune dice, Tari, non basta, faremo reclamo. E chiudiamo, come detto, con la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila, di Avezzano e Sulmona. Per andare a vedere anche in questo caso quali sono i titoli di apertura dell'edizione aquilana del centro. Prese soldi dal prof, tre anni a Diorio. L'Aquila, l'ex rettore condannato dopo la denuncia di Tiberti. E poi Ovidio finisce sui jeans disegnati da studenti stilisti sul Monacon Corso per il liceo artistico. E per ricordare l'illustre cittadino, proprio ovidiano. Nelle cronache, l'Aquila, fuoco amico su Cialente, dal PD locale, sempre nel capologo regionale, nei cantieri aumenta il lavoro nero. E poi tunnel del rame con panini e bibite dei ladri. Chiudiamo dunque con le prime pagine delle quattro edizioni del centro. Passiamo al messaggero per andare a vedere i titoli di carattere nazionale per quanto riguarda il quotidiano romano. Poi nella seconda parte ovviamente daremo spazio alla cronaca regionale alle 7.20. Vi ricordo il meteo. Prima pagina del messaggero. Frontiere chiuse per due anni. Schengen e gli stati dell'Unione Europea chiedono l'estensione dei controlli interni per almeno sei mesi. E poi uomo con fucile, terrore, la stazione Termini di Roma, fermato e rilasciato. Era un giocattolo. E poi si parla di economia. La UE dice debito italiano ancora alto. Padoan lo stiamo tagliando. E poi verso il Family Day, Unioni Civili, a fondo di Bagnasco, il presidente della conferenza episcopale italiana, che dice che i figli devono avere papà e mamma. Andiamo a vedere le pagine interne. Partiamo da pagina 2. L'Unione Europea avverte l'Italia. Debito alto, rischi a medio termine. Il ministro Padoan risponde e dice che il bilancio è ok. E poi le borse, perché le banche trascinano ancora giù piazza affari, timori per petrolio e previsioni della BCE. Renzi, vedete in basso, il presidente del Consiglio che dice che siamo un paese solido. Adesso l'Unione deve puntare sulla crescita. Ma la riduzione, vedete nell'altra pagina, il titolo di apertura, è già in arrivo grazie ai conti tornati in ordine. Lo stock dell'indebitamento a metà anno comincerà a scendere in relazione al PIL. E poi Draghi, ai tedeschi, nessun segnale di una seria instabilità finanziaria. Il presidente della BCE, Mario Draghi, appunto, chi critica la nostra politica monetaria, dice a torto. Magari ci fosse una rapida crescita del credito. E poi si parla di pensioni. A fondo pagina la rivalutazione delle pensioni, di nuovo all'esame della consulta. Andiamo avanti per parlare, in questo caso, dei controlli. Per due anni, per salvare Schengen, i ministri dell'interno ad Amsterdam chiedono l'applicazione della proroga. Alfano, ministro degli interni del nostro paese, dice per ora che il trattato è sicuro. Ma la collega austriaca risponde. Sta per saltare. In basso, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Sandro Gozzi, in questa intervista, dice difendiamo la libera circolazione, rafforzando le frontiere esterne. Andiamo ancora avanti. Sempre lo stesso argomento. L'Italia rischia nuovi arrivi. Prevista un'ondata a sud-est. La possibile sospensione di Schengen. Allarma il Viminale. Contromisure già pronte. Un nuovo hotspot alla frontiera con la Slovenia. Ma si teme l'isolamento. Proseguiamo. Siamo alle cronache italiane. Panico alla stazione Termini a Roma ieri sera, che è stata tra l'altro evacuata, sfugge un italiano col fucile giocattolo. Dopo l'allarme di una passeggera, l'uomo individuato, grazie alle telecamere, era arrivato ai binari senza subire controlli. Vedete nella foto quest'uomo con questa arma in mano, che poi si è rivelata essere un'arma giocattolo. E poi, aspirante giadaista arrestato a Cosenza, l'Europol dice Isis pronta a nuovi attacchi. E dunque, guardia sempre alta. E poi, fermato sul treno e poi rilasciato, finisce in beffa la caccia all'uomo. Dopo aver sparso il terrore nella stazione, il ricercato sale sul locale, diretto ad Anagni. Il carabiniere che lo avvicina dice, l'arma è finta, è un regalo comprato per mio figlio. Dunque, si torna a parlare proprio di quello che è accaduto ieri sera alla stazione Termini, che è stata evacuata dopo che una donna aveva dato l'allarme per aver visto questa persona con un'arma in mano. Come detto, poi l'arma si è rivelata giocattolo. Siamo alla politica nazionale ed internazionale. Presidente Roani a Roma, Diplomazia e Business, primo giorno in Italia per il Presidente dell'Iran. Incontro con Mattarella e Quirinale, poi il faccia a faccia con Renzi. Vedete nella foto l'incontro tra il primo ministro italiano e il primo ministro di Teheran. Messaggio ai nostri imprenditori, vogliamo favorire gli investimenti e sul terrorismo combattiamolo insieme. E invece il rabbino di Segni contesta la visita, qui non vogliamo i negazionisti. E poi l'imbarazzo per le opere d'arte con i nudi, il veto degli iraniani sulla statua di Marco Aurelio. Dunque, su alcune questioni restano le distanze tra l'Iran e i paesi occidentali. E poi il business, che potrebbe però subire un salto di qualità importante, perché da ferrovia Saipem, stretti con Teheran, 17 accordi commerciali, miliardari. Tra l'altro ricordiamo che l'Iran arriva da tanti anni di chiusura a livello commerciale, proprio per le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Europa. Siamo alla manifestazione che ci sarà il Family Day sabato prossimo a Roma. Bagnasco dice, presidente della conferenza episcopale italiana, i figli non sono un diritto. E avverte, vescovi uniti sulla famiglia, riunito il Consiglio Permanente della Cene, sul riferimento esplicito però al Family Day, ma ricorda il dettato della Costituzione. Poi c'è un'intervista, io da omosessuale e cattolico dico a un bimbo, servono padre e madre. E poi la svolta di Francesco sui luterani, sarà l'anniversario della riforma. Il 31 ottobre all'Und, la cerimonia per i 500 anni, il Vaticano dice un ulteriore gesto di dialogo. Sempre sulle unioni civili il Partito Democratico va alla conta, i Cattodem però rispondono che così sono invotabili. E in Portogallo il presidente uscente stoppa in extremis le adozioni gay. Andiamo ancora avanti. Rai Freccero, consigliere di amministrazione, dice voglio grillo in prima serata e scoppia un caso. Il consigliere indicato proprio dal Movimento 5 Stelle sotto accusa, il PD dice vuoi favorirli, Campo Dall'Orto, direttore generale della Rai, lavora invece alle nomine per Raiway, si affida ai cercatori di teste. E poi appalti a Saxarubra i rapporti di Biancifiori con i Casa Monica. E siamo alla politica internazionale, pagina 15, del messaggero No di Tobruk, il governo libico non parte, oggi si riprova, rientrano due deputati che potrebbero essere decisivi per far nascere l'esecutivo di unità nazionale. E poi se il premier designato Sarrai supererà il voto, si potrà chiedere l'intervento ONU, contrasti sulla lista dei ministri. E poi questa storia che arriva dall'Antartide, dove da solo muore di stanchezza. Tragica fine per l'esporlatore britannico Henry Wosley, amico dei principi William e Henry. Paura in volo, turbolenza, sette feriti sul volo Miami-Milano. E poi l'allarme dell'OMS, zica trasmissibile con il sangue. Proseguiamo, pagina 16 del messaggero. Assente isti in Sicilia, andavano a caccia dopo aver timbrato il cartellino. Pachino denunciati in sette, c'era anche chi tornava a casa o faceva shopping. A Brindisi ancora in servizio i 36 condannati alla ASL. Siamo alle pagine dell'economia. Castagna dice no al Monte dei Paschi. Opzioni Ubi o Banco. Dunque la BPM si sfila da un triangolo che coinvolge l'istituto senese, appunto il Monte dei Paschi di Siena. E poi in basso, dinastie industriali, grande esempio di Walt Disney. Si parla sempre di economia e si parla in questo caso di Fiat Chrysler, perché se in borsa non recupera nessuna fusione sarà possibile. Domani il CDA proverà il consuntivo 2015. Attesi, buoni risultati, ma General Motors è più lontana. E poi Twitter scossa al vertice, giù il titolo alla borsa di Wall Street. Infine Banche d'Energia più concorrenza. Lasciamo il messaggero, torniamo al centro per andare a vedere anche in questo caso le pagine di cronaca nazionale e poi le pagine di cronaca regionale. Schengen è a rischio, controlli per due anni. Abbiamo visto anche dalle pagine del messaggero tutte le problematiche legate proprio a questa situazione con tanti profughi che continuano ad arrivare in Europa. E poi gira con il Mitra Termini, stazione evacuata, caccia aperta. E poi l'Europa è sotto attacco, preso aspirante kamikaze. A fondo pagina l'incontro a Roma tra il Presidente della Repubblica Mattarella ed il Primo Ministro iraniano Rohani. Proseguiamo, banche e la crisi, Unione Europea, rischio Italia per l'alto debito, per il governo conti sostenibili, Renzi sul crack, dice i truffati rimborsati fino all'ultimo centesimo. Poi sofferenze e la partita di Padoan, oggi incontro con la commissaria Bestager, il noto è quello delle garanzie. Poi il dibattito, Bagnasco dice i figli, non sono un diritto. Proseguiamo, turbolenze e terrore sul volo Miami-Milano, feriti sette passeggeri. Il Boeing 767 con 192 persone a bordo è atterrato in Canada. I testimoni dicono, credevamo di precipitare in columi gli italiani. Poi la notizia che riguarda gli assenteisti dal lavoro, che in questo caso in Sicilia, timbravano e andavano, alcuni perlomeno andavano a caccia. Siamo alle pagine d'Abruzzo del centro, la prima pagina riguarda la politica regionale, l'azienda ha investito, la regione rimborsa fino al 50%, sono 180 le imprese selezionate che riceveranno i contributi per l'innovazione, hanno risposto in 233, ora le altre attendono. E poi ci sono sempre su questo argomento il caso, il ristorante di Morino in provincia dell'Aquila, in corsa per 7 milioni, magari ne abbiamo spesi 14. E poi aumenta la richiesta di immobili. L'Abruzzo, infatti, conquista gli inglesi. Il borgo di Santo Stefano di Sessanio è stato celebrato dal noto quotidiano inglese, il Guardian. Andiamo ancora avanti, si parla di lavoro in questo caso, poi ancora una pagina di economia, l'ILVA, gli operai bloccano gli impianti di Genova e poi siamo arrivati alle pagine di cronaca provinciale. Andiamo a vedere brevemente le due pagine di cronaca d'Abruzzo del messaggero e poi parleremo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma di Tempo. Prima pagina del messaggero, un massacro nella manzarda, questo è il titolo che riguarda il duplice omicidio di domenica pomeriggio a Pescara. E poi Popolare Bari e BPR in corsa. Per carichieti scaduti termini sono in lizza gli istituti che hanno acquisito Tercas e Cassa di Risparmio dell'Aquila. Poi vedete fotonotizia, concussione tre anni a Diorio. Andiamo a vedere la seconda pagina di cronaca regionale sulle nomine e battaglia, dandolo favorito per la Corte dei Conti e la scelta di D'Alfonso. Opposizioni sul piede di guerra, garante dei detenuti, non c'è accordo sulla Bernardini. Poi Banda Europeo, la graduatoria delle piccole e medie imprese. Poi la polemica del centro-destra. Consiglieri regionali Febbo e Sospiri dicono troppi incarichi. Ad Abruzzo sviluppo gli ultimi due titoli che riguardano la cronaca regionale. Giudici onorari contro la riforma. Il vicepresidente del CSM Legnini dice impossibile stabilizzarli. E poi si parla di trasporti della tua. Sindacati soddisfatti per la riorganizzazione. Sono le 7.19 minuti. Apriamo la pagina del meteo. Abbiamo in collegamento il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti e a tutti gli spettatori. Allora, cosa dobbiamo attenderci per la giornata di oggi e anche per le prossime ore? Il tempo che sembra sia tornato stabile. Se non mi sbaglio, temperature più o meno nella norma. Non c'è più il freddo dei giorni scorsi. E da quello che ci avevi detto anche nei giorni passati, ci potrebbe essere anche un aumento delle temperature per le prossime ore. È confermato tutto questo? Sì Paolo, è confermato perché la nostra penisola è interessata e sarà interessata da una marta area di alta pressione in ulteriore rafforzamento nei prossimi giorni che determinerà, favorirà condizioni di tempo stabile su tutta la penisola, ma anche sulla nostra regione dove le temperature sono previste in aumento. Ma l'aumento si avvertirà soprattutto sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre comunque nelle pianure e nelle vali, durante le ore più fredde della giornata, farà piuttosto freddo, ci sarà spazio anche a formazioni nebbiose, soprattutto per il momento sul settore occidentale, quindi sulla Massica e nell'Aquilano, in diradamento durante le ore più calde della giornata. Non ci saranno particolari novità nei prossimi giorni. La persistenza dell'alta pressione però potrebbe favorire la formazione di banchi di nebbia anche sul versante orientale nei prossimi giorni, Paolo. Quindi non ci escludono nuovi banchi di nebbia, anche se tra oggi e domani comunque non ci dovrebbero essere problemi in tal senso, dovrebbe essere una bella giornata di sole con temperature in ulteriore aumento soprattutto nei valori massimi. È chiaro che poi però la persistenza di questa vasta area di alta pressione favorirà con tutta probabilità un nuovo accumulo delle sostanze inquinanti soprattutto nei grandi centri urbani, perché ovviamente non c'è più rinescolamento favorito dall'arrivo di perturbazioni o dall'arrivo dei venti e quindi questo potrebbe creare qualche problema soprattutto nelle città, nei grossi agglomerati urbani, Paolo. Quindi poche novità nei prossimi giorni, anche le temperature resteranno al di sopra delle medie stagionali, almeno per gran parte della settimana. Non si prevedono sostanziali variazioni da qui ai primi giorni del mese di febbraio. Paolo. Sì, tra l'altro Giovanni ci avviciniamo a quelli che sono i giorni più freddi dell'anno, i giorni della merla, come si suol dire. Volendoci spostare un po' più avanti con le previsioni, anche se come ci hai sempre detto andare oltre le 48 ore è sempre un punto interrogativo, questa fase di stabilità potrà durare dunque fino ai primi giorni di febbraio e poi, insomma, febbraio di solito è il mese più freddo in assoluto dell'anno. Quali sono le previsioni un po' a lunga scadenza per questo mese? Potrebbe tornare il maltempo? Potrebbe tornare la neve? È ancora ovviamente troppo presto però per dirlo. Esattamente, perché Paolo, come hai detto tu giustamente, non si possono fare previsioni al di là delle 48-72 ore, anche se possiamo capire, un po' cercare di capire quello che potrebbe accadere nel giro di 5-7 giorni, ma come tendenza generale. Bene, insomma, osservando gli ultimi aggiornamenti, insomma, la situazione non cambierà. Anche nei giorni della merla avrezzeremo interessati dall'alta pressione, anche se no ci saranno probabilmente degli annuvolamenti, ma, insomma, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici potrebbero, iniziano a mostrare comunque un possibile cedimento dell'alta pressione tra il 3 e il 4 di febbraio, insomma, non che arrivi il grande freddo, ma comunque non si esclude l'arrivo di perturbazioni di origine nord-atlantica. Si tratta questa, Paolo, di una tendenza poi da confermare nel corso dei prossimi giorni, perché sai benissimo che le previsioni possono cambiare nel giro di 24 ore. Quindi domani forniremo ulteriori informazioni nel caso ci dovesse restare confermi di questo cambiamento possibile, però non prima del 2-3 febbraio. Paolo. Benissimo, grazie, grazie al nostro Giovanni De Palma, ti ringrazio, buona giornata Giovanni, buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo il nostro meteorologo Giovanni De Palma, ma per restare informati c'è il sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui inquadrato con tutte le previsioni che riguardano la nostra regione. Poi c'è anche la pagina Facebook del nostro Giovanni De Palma, un strumento utile anche per interagire, per colloquiare con il nostro meteorologo. Noi chiudiamo la parentesi dedicata alle previsioni meteo, torniamo alla lettura dei nostri quotidiani, torniamo anzi al centro per iniziare a leggere le cronache dalle province. Partiamo da Pescara, ovviamente da questo duplice omicidio che ha scosso l'opinione pubblica nel capologo adriatico. I due volevano rapinarmi, non credevo di averli uccisi, l'assassino di madre e figlio aveva organizzato tutto, ha detto, scusate, avevano organizzato tutto nell'interrogatorio, io mi sono difeso. Li ha trafitti con 40 coltellate, stamane l'autopsia, gli investigatori decisiva anche la collaborazione fornita dai cittadini. Maxime dalle due facce, la mamma che si dispera, il 25enne arrestato per omicidio, era invece in cura da tempo per problemi di droga. Ma ieri mattina in questura c'è stata una conferenza stampa congiunta delle forze dell'ordine di Polizia di Stato e Carabinieri che hanno condotto insieme questa inchiesta. Andiamo a vedere dunque nel servizio di Francesca Romanatesti un po' il riepilogo di questa triste vicenda. Un crimine così efferato che all'arrivo delle forze dell'ordine quello scenario aveva fatto pensare all'utilizzo di un'arma da fuoco. Maxime Shernish, 25enne, ucraino, è stato arrestato nell'immediato, si era nascosto nel locale contatori di una palazzina in via dei Pretuzzi, a poche centinaia di metri dalla casa del duplice omicidio in via Tibullo. A morire madre e figlio di origine polacca, lui, 23 anni, Arcadius Mitzka e la madre Cristina di 56. A monte del litigio, sfociato in tragedia, debiti di droga, pare infatti che l'assassino dovesse dei soldi alla vittima. Sembrerebbe una lite nata lì sul momento. L'intenzione sua non è stata quella di andare lì per uccidere. Questo sembrava quantomeno acclarato. È nata una discussione, stiamo verificando effettivamente i motivi di questa discussione che sembrano riconducibili a questioni inerenti agli stupefacenti, a partite non pagate. Da lì la cosa è degenerata, si è passata le vie di fatto, si è passato poi all'uso delle armi e stiamo verificando esattamente come sono andate questi fatti. Secondo le dichiarazioni di Maxime Cernici, i due si trovavano insieme perché la vittima da qualche tempo ospitava in casa il suo assassino, in attesa di trovare un altro alloggio. I due stavano aggiustando un computer e avevano appena assunto droghe. Entrambi, la vittima aveva assunto eroina, mentre l'assassino Marioana. L'assassino ha dichiarato che entrambi avevano assunto droghe ieri pomeriggio. Questo ha sicuramente contribuito ad alterare la normalità dei comportamenti. Solo questo del resto può spiegare tanta feratezza, soprattutto nei confronti della madre che era estranea alla diritta iniziale e si è trovata a subentrare sulla scena del crimine in un secondo momento. Cristina Mitzka è morta per essere arrivata a casa del figlio nel momento sbagliato. La donna infatti si recava quotidianamente in via Tibullo per occuparsi delle pulizie in casa del figlio. Probabilmente al suo arrivo ha sorpreso l'assassino nel corso del delitto. La donna, a differenza del figlio, ucciso con un numero impressionante di coltellate, è stata uccisa con una mazza da baseball in un secondo momento. Due sono stati coltelli ritrovati, uno all'interno della casa e uno lo portava con sé l'assassino. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la provenienza di quello ritrovato insieme a Scernish, poiché non sarebbe compatibile con quelli ritrovati nella casa di via Tibullo. Dopo il primo fermo è stato portato in ospedale per ferite riportate alla mano? Sì, ha delle ferite molto serie alle mani, soprattutto a quella sinistra, dei tendini recisi. Probabilmente nei prossimi giorni dovrà anche essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sembrerebbero delle lesioni da difesa. La sacca ritrovata nei pressi della caserma di Cocco conteneva abiti e la mazza da baseball insanguinata. Inizialmente si pensava un omicidio premeditato, ma pare che fossero tutti oggetti appartenenti alla vittima. Visto che i due avevano già una frequentazione pregressa, non sembra che il motivo della visita di questo ucraino a casa del ragazzo polacco sia stato per un regolamento di conti. Questo dovrebbe essere nato successivamente. Fondamentale per l'intervento congiunto tra carabinieri e polizie è stato l'aiuto di due testimoni, la vicina di casa per risalire all'ora del delitto e un giovane con il suo cane per il ritrovamento del borzone. È stato trovato dentro una stanza con dei contatori, la porta non era forzata, ha aperto lui? Sì, ha aperto lui, è il primo locale che ha trovato in cui rifugiarsi, era molto spaventato e molto scioccato da quello che era successo. Ha aperto lui alle forze dell'ordine? Abbiamo fatto eruzione noi, l'abbiamo bloccato a terra. Le indagini dopo l'arresto proseguono con la competenza dei carabinieri di Pescara. Questo è il servizio sul duplice omicidio di Via Tibullo, noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, continuiamo a leggere le pagine della cronaca di Pescara, un simbolo della città che se ne va a Dio a parete, morto il testimone dell'olocausto all'età di 93 anni, se ne è andato il finanziere che sopravvisse all'orrore nazista. E poi in basso, gestione della crisi per i troppi debiti, corso per commercialisti, 36 attestati. E poi si parla di piano spiaggia, il piano spiaggia presentato dal Comune, difeso dal sindaco Alessandrini e dal vice sindaco Del Vecchio, balneatori pronti a manifestare. Alessandrini e Del Vecchio rispondono alla minaccia degli ambientalisti di scendere in piazza le possibilità di crescita dei volumi e delle tettoie. Sui lidi si abbasserà, a detto Del Vecchio, fino allo 0,51%. Noi abbiamo ascoltato proprio il vice sindaco di Pescara. Si parla del piano demaniale marittimo, quello che sta suscitando diverse polemiche, si parla soprattutto di quella che sarà la superficie che occuperà. E' pur vero che il piano demaniale regionale prevede una norma, ha in sé una norma che dice che le superfici oggi copribili con volume e tettoie sono aumentate del 30%, però questa è un'indicazione di carattere generale che va trasferita sul territorio. Nel caso di specie per quanto riguarda il Comune di Pescara, questa norma interamente recepita nel piano demaniale comunale produrrà un aumento di volumi e tettoie nella misura dello 0,51%. Quindi nessuno sfreggio, nessuna cementificazione di questo 30% che nei fatti si traduce nello 0,5%. Dall'altra ci sono gli albergatori che sono preoccupati perché dicono i bungalow in qualche modo possono danneggiare il loro mercato. Una città che cresce, che si sviluppa, non deve aver timore neanche di questa possibilità inserita nel piano demaniale comunale e cioè quello di un piccolo, di destinare una piccola parte prevista nel 10% nelle attuali e quindi non nuove volumetrie, nelle attuali volumetrie da destinare a ricettività alberghiera. Quando verrà votata l'approvazione del piano demaniale? Ma questo è compito del Consiglio Comunale. Adesso abbiamo finito, o almeno il Presidente della Commissione sta terminando gli aspetti relativi al confronto con le parti sociali. Appena terminato questo confronto si andrà in Consiglio Comunale con l'adozione e poi successiva approvazione. Si dice che non verranno più smantellate a fine stagione balneare le strutture mobili. Falso. Questa norma è contenuta nel piano in una forma diversa rispetto alla precedente ma obbliga gli stabilimenti balneari a rimuovere tutte le strutture mobili a fine stagione balneare. Terzo aspetto, non meno importante, prima di procedere all'installazione degli impianti mobili, degli ombrelloni e quant'altro, bisogna presentare un progetto che avrà bisogno, avrà necessità di essere munito anche della valutazione paesaggistica. Queste le dichiarazioni del Vice Sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio sul nuovo piano demaniale marittimo del Comune di Pescara. Andiamo avanti, sempre Pescara, nomi delle strade, accordo rinviato, Teodoro propone Gaspari per via caduti per servizio e Berlinguer per la bonifica. Andiamo ancora avanti, cronaca di Pescara, contromano sulla rampa, un altro incidente sull'asse attrezzato dopo la tragedia di dicembre che era costata la vita a due persone. Ieri un'auto è entrata contromano proprio all'ingresso dell'asse attrezzato da Piazzale della Marina, due persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera grave. E poi il monito di Valentinetti, non speculate sui lavoratori. L'arcivesco interviene dopo l'incontro in Curia con 20 precari di Attiva. In basso, Grande Pescara, il Movimento 5 Stelle spinge per la fusione e vediamo che il consigliere regionale mercante ribatte ad Alessandro il governatore proposta, D'Alfonso dice proposta entro fine mese. Andiamo ancora avanti, il mercato dell'edilizia, case, i prezzi in discesa, affari anche in centro e poi in via Rossetti, via Taon de Revelle, muri rotti e infiltrazioni, gli alloggi popolari a pezzi. Proseguiamo, siamo alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana di Pescara, i cittadini scelgono il candidato sindaco, alta attenzione nel PD, Francavilla il sondaggio del centro è partito con il botto, Viani si dimette, troppi personalismi e lacerazioni interne. E sempre a Francavilla, Torre Ciarapico, Garage e Veleni, di Renzo accusa, ultimata l'opera di un privato nell'area vincolata. Siamo a Montesilvano, Aleano ridà l'allarme, sono 145 i profughi in arrivo sulla riviera. Spoltore, c'è stato il rimpasto di giunta proprio nelle ultime ore dopo le dimissioni del vice sindaco Rosini, Cacciatore è il nuovo vice sindaco, Mascio Vecchio, assessore allo sport. Vedete nella foto seduto il sindaco Luciano Di Lorito e poi da una parte Carlo Cacciatore il nuovo vice sindaco, dall'altra Loris Mascio Vecchio, nuovo assessore allo sport del comune di Spoltore. Poi tornando a Montesilvano, miaggio in musica tra guerra e olocausto, domani al liceo d'Ascanio la pellicola della memoria con lo studioso Camillo Chiarieri. Andiamo avanti, siamo sempre nella pagina che riguarda l'area metropolitana di Pescara. Montesilvano ancora studente universitario, vende droga nel parco, il giovane arrestato dai carabinieri per spaccio a due minorenni. Aspoltore, terra in affitto, è pronto il bando. E poi si parla di province perché Di Marco, presidente della provincia di Pescara, farà parte della delegazione del Lupi che oggi incontrerà a Roma, al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Andiamo ancora avanti, pagina di Penne Popoli, Alta Val Pescara, vacanze e benessere. Caramanico affida uno studio a Vivitalia. All'anno, fattore, dice sì al baratto amministrativo per le tasse. E poi Penne, strade distrutte, arrivano 150 mila euro. Infine Torre dei Passeri, 300 studenti ricordano il dramma della Shoah, poi festa per i 100 anni di Assuntina e Salle. Canta il buon compleanno. Auguri a questa nonnina di 100 anni. Siamo a Chieti. La svolta nelle inchieste che riguarda le banche commissariate. Pool di PM indaga sulle quattro banche. Tenuto segreto il vertice di magistrati a Bologna. Per cari Chieti partecipano il procuratore capo ed il sostituto Falasca. E poi una notizia che riguarda la magistratura abruzzese perché l'ex ormai procuratore di Chieti Pietro Mennini e il nuovo procuratore generale d'Abruzzo, il CSM, ha votato infatti all'unanimità. Andiamo ancora avanti. Torniamo alla questione banche. La fondazione della Cari Chieti contro Banca Italia, ricorso al Tar e in procura. Proseguiamo. Siamo sempre alla pagina di Chieti, Chieti e provincia. Alessandro vivrà per sempre con noi. Chiesa affollata e picchetto d'onore dei Vigili del Fuoco per l'addio a Ricco, vicepresidente del Giuliano Teatino. E poi una notizia che arriva da Lanciano, una notizia di cronaca. Anziano rapinato in casa con un martello. Paura i banditi portano via solo un giaccone. In città altre due truffe per 8.000 euro. Siamo alla cronaca dell'Aquila del centro. L'ex rettore condannato a tre anni di orio nei guai dopo la denuncia del professor Tiberti che lo accusa gli ho versato dei soldi per salvare la mia carriera. E poi siamo in Marsica, attentato a Magliano. Spunta un indagato. Sarebbe stato un rivale in amore a svuotare due caricatori di fucile contro l'ex brigatiere. E poi il pirata della strada chiede scusa ad Elio. Incontro in ospedale con il 17enne di Trasacco investito mentre attraversava la strada con gli amici. Pagina di Teramo del centro. La sanità che funziona. Tecnologia avanzata all'ospedale Mazzini di Teramo. Interventi sul tumore al cervello. Al top con il nuovo microscopio. Poi l'allarme. Finti operai dell'Enel. E i contratti capestro. In basso tutt'atri commossa per Luca. Oggi il ritorno della salma di Luca Iezzi. Siamo arrivati alle pagine dello sport del centro. Andiamo a vedere dunque le pagine di cronaca provinciale del messaggero. Partiamo dalla cronaca di Pescara. Anche in questo caso l'apertura sul duplice omicidio di Via Tibullo. Li ha massacrati con 35 coltellate. Maxime Cernisci racconta al PM di essere stato aggredito dal polacco e dalla mamma. E di aver reagito al tentativo di furto. Vedete alcune foto scattate proprio nei minuti successivi. Questo duplice omicidio. E poi l'interrogatorio. Voleva i miei soldi. Era sotto l'effetto di droghe pesanti. L'imputato punta sull'ipotesi di un eccesso colposo di legittima difesa. Il PM chiede la custodia cautelare. Io sto con gli operai. Valentinetti incontra gli ex precari di attività. Spero che la Corte dei Conti autorizzi la riassunzione, dice il Vescovo, dopo l'incontro con una delegazione di 20 lavoratori. E poi il sindaco difende il piano spiaggia. Si spaccano consiglieri e associazioni. Abbiamo ascoltato al tal proposito l'intervista con il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio. E poi pioggia di interrogazioni o istruzionismo di Forza Italia in aula per le nomine nelle fondazioni. E poi la nuova Pescara, la legge d'Alfonso. Non parla di fusione. Il governatore affronta il dossier del Maxi Comune. Punta a coniugare volontà elettorale e visione dei sindaci. Minacce al prete che si batte per bussi. Messaggio di morte anche ad un collaboratore e auto danneggiata. Ma Don Corrado non abbandona la crociata per il paese fabbrica. Addio a parete superstite di Dachau al massimo concerto. Per la Shoah, infine, due notizie di cronaca. A Montesilvano vende ascisce a minorenni, spacciatori in manette. Poi due feriti nel frontale, ieri in una macchina che ha imboccato contro mano l'asse attrezzato da Piazzale della Marina. A Pescara. Siamo alla cronaca dell'Aquila. Di Orio condannato a tre anni, costrinse Tiberti a pagare. E poi monta la protesta contro il Ministero. Pietrucci, Marcozzi, scontro su campanilismi. De Matteis, Cialente, troppo morbido. Con Franceschini si parla dell'eventuale trasferimento della sede della sovrintendenza. E poi UOS, ecco come gestire la risorsa della fauna selvatica. Mausonia, un ponte che divide dopo l'annuncio di Cialente e Pietrucci. Insorgono le opposizioni, non possono pensare di evitare il confronto in Consiglio Comunale. E poi la mossa di Antonini che dice ho cambiato idea. Parla il nuncio apostolico e dice se l'opera va fatta, si faccia. Ma non sia impattante e rispetti la città. E poi una scala mobile per collegare via Strinella a Porta Leoni. Un tapis roulant da Colle Maggio alla Villa Comunale. Questi progetti in cantiere. E poi allarme di soccupazione. Si parla di lavoro con l'avvertenza che riguarda le aree interne. Siamo alla cronaca di Avezzano Sulmona. Di Pangrazio studia già da manager Asle. Sindaco non esclude la sua possibile candidatura. Ma per ora sono incompatibili in base alla normativa. E poi un appello a Cialente. Convochi subito i primi cittadini per riscrivere le regole. E si idiano da fare i consiglieri regionali. Roccapia, droga nascosta nelle tute da scie. D'Avezzano, piante tagliate nel bosco. Callegari, nega responsabilità. E poi a Sulmona, chirurgia dell'obesità. Riconosciuto il centro ovidiano. Sempre a Sulmona, menze scolastiche, fondo di solidarietà. Ha sempre ancora nella cittadina ovidiana pronto il bando per le case parcheggio. Infine a Civitadantino, superstrada, torna l'autovelox della discordia. Siamo alla pagina di Chieti, del messaggero. Testimoni sbucati dal nulla. Non ho incendiato io il pub. Memoriale dell'ex titolare del Coiba, che però davanti al GIP non risponde. Antonella Gasparro rispinge le accuse e dice negli ultimi tempi. Molti guasti elettrici. E poi giorno della memoria anche a Chieti con le scuole protagoniste. In basso Menini diventa procuratore generale. In Abruzzo, via libera del CSM al numero uno dei PM Chietini. Una lunga carriera tra i casi scottanti. Da Abruzzo. Siamo ancora alla pagina di Lanciano Vastortona. Multopoli a San Salvo. La Corte dei Conti rivuole 66 mila euro. E poi verso le elezioni. Ecco qual è la ricetta di Desiati per Vasto. Ancora cronaca che arriva dall'area frentana. In questo caso il 13 marzo le primarie del centro-destra, perché si voterà anche a Lanciano. E poi cronaca, estorsioni e minacce all'amico. Chiesto il processo. A San Salvo, in seguimento da brivido sull'A14, la polizia recupera due tir rubati. Ladri intercettati dagli agenti al casello della Val di Sangro. Infine Ortona, fognature nelle frazioni intesa tra Sasi e Comune Ortonese. Siamo alla cronaca di Teramo del messaggero Corso San Giorgio. Restyling e veleni. Il primo corpo di lavori va dai portici del Grand'Italia fino ad arrivare a Via Carducci, compresa la rete dei sottoservizi. La Curie, il Vescovo Seccia con la Bianchetti contro i detrattori del Family Day. E poi i falsi ispettori Enel. Truffano, anziani indossano anche logo e giubbotti blu. E poi i fondi al distretto della Montagna. L'assessore regionale Di Matteo li ha garantiti luci ad Arsita. Scusate, situazione critica. Troppe disparità. Infine, sosta selvaggia. Colazione al bar. Blocca il bus diretto all'ospedale. Siamo alla pagina di Giuliano Roseto e Val Vibrata. Partiamo da Giulianova. Tari e Iumu. I reclami non sono ammissibili. Parola di assessore. A Tortoreto tenta di svaliggiare self-service arrestato. Alba Adriatica. Pieni poteri al segretario comunale. Nereto e Martinsicuro. Seduta contestata. Ed entra Bentresca. E poi in basso Giulianova. Appello alla regione per stabilizzare l'istmo che blocca l'erosione a sud. Pineto. Il comune si connette con gli smartphone. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Andiamo a vedere però, prima di parlare appunto di sport, le pagine del quotidiano La Città di Teramo. Partiamo dalla prima pagina. Rinasce il sogno della banca abruzzese. E poi, beccati sul fatto, arresto ad uno della banda e di Tortoreto. E poi anche questa notizia che riguarda, proprio nella giornata, in queste ore, nella giornata della Shoah, liceo delfico Adamoli, il podestà fascista che rischiò la vita per salvare gli ebrei. Dunque una storia un po' al contrario. Proseguiamo. Pagina 3. Partiamo dalla cronaca d'Abruzzo. A Pescara, omicidi di violenza e crude età inaudite. Si parla ovviamente del duplice omicidio di via Tibullo a Pescara. E poi cronaca giudiziaria. Concusione. L'ex rettore di Orio, condannato a tre anni. E poi da Alfonso. Entro gennaio. Ipotesi sul Grande Pescara. Il Movimento 5 Stelle ribatte solo scuse. Andiamo avanti. Teramo. Rinasce il sogno della banca abruzzese. Popolare di Bari incasse il via libera dal fondo interbancario su Tercas. E si candida a rilevare nuova Carichietti. E poi banche. Ancora riforma delle BCC giovedì sul tavolo del governo Renzi. Siamo a Teramo. Corso San Giorgio. Restyling completo entro l'estate. Nuovo pericoloso annuncio alla ripresa del cantiere. I commercianti incrociano le dita sui tempi del comune. Proseguiamo. Ancora Teramo. Truffe. Falsi operatori Enel. L'inganno anziani. L'associazione Robin Hood lancia l'allarme. E poi stufa a fuoco. Cinque famiglie evacuate a Bellante. Ancora cronaca in basso. Ruba il cellulare in un negozio. Fermato un 31enne. E poi Family Day. Cattolico non fa rima con ideologico. Il Vescovo ospita Lorena Bianchetti. Per festeggiare San Francesco di Sales. Patrono dei giornalisti. E rilancia l'appello per l'evento di sabato a Roma. Andiamo ancora avanti. Siamo alle pagine della provincia di Teramo. Cir su la curatela di fide vertici del CSA. Dopo la relazione di Arta e Forestale. Il Tribunale chiede di bloccare subito le attività inquinanti al Polo. E poi Montorio Alvomano. Autodromo. I grillini pretendono le dimissioni preventive dell'assessore Testa. Se il 6 febbraio voterà a favore della variante al piano regolatore, il suo assessorato, dicono, sarà totalmente inutile. Proseguiamo. Val Vibrata. Furti alle colonnine self-service di Tortoreto 1 della banda. Ladri inseguiti dalla polizia di Escoli Piceno. Preso un 28enne romeno. E poi Alba Adriatica. Derubata dello smartphone nella sala scommesse. Ancora avanti. Giulianova Mociano. Tari. Il comune non accetta la mediazione. Siamo a Giulianova. L'assessore dice ricorsi non accoglibili. Il comitato 365 risponde falso. Basta un modello per conciliare. E poi quartieri. Sicurezza. Petizione per sensibilizzare sulle richieste del centro storico. Poi rifiuti e sociale per i 5 stelle. Il bilancio non torna. Ancora avanti. Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Partiamo da Atri. Atri, Camera Ardente. Al Duomo per il Giovane. Lucchino Iezzi. Domani i funerali del 28enne morto in una clinica austriaca a due anni di distanza da un gravissimo incidente stradale. Pineto, eventi e pubblica utilità. Il comune sta su WhatsApp. E poi associazioni a Silvi. Mobilità sostenibile. Cicloturismo. Col progetto Cerrano Bike. Proseguiamo. Cultura. Ecco l'articolo che era anche con il richiamo in prima pagina. Adamoli nascondeva gli ebrei a casa mia. La testimonianza di Rosina Iervella per salvarli dallo sterminio. Il potestà li fece ospitare a Villaripa da famiglie amiche. E domani alle 10 gli studenti del classico presenteranno in aula magna i risultati del progetto su Adamoli. Durante l'incontro a farla da protagonisti saranno i ricordi con cui Rosina Iervella ha raccontato quegli anni. Siamo alla pagina dello sport che riguarda il Teramo. In questo caso il Teramo sistema l'attacco con Scapuzzi. In via di definizione lo scambio che prevede il ritorno a Como di Lenoci. Poi solo cessioni. Domenica la sfida delle 17.30 contro il Sant'Arcangelo. E a proposito di sport andiamo a vedere le pagine del centro e del messaggero. Partiamo dal centro per vedere le pagine che riguardano lo sport. Partiamo dalla cronaca nazionale. Gervinio e Guarin in Cina. L'Inter tra Eder e Soriano. E poi la sfida inedita questa sera di Coppa Italia. Si giocherà a Torino la semifinale di andata tra Alessandria e Milan. E pensate che da Alessandria si sposteranno in 15.000 allo Stadio Olimpico di Torino per seguire la sfida tra la formazione piemontese ed il Milan. E poi i 75 anni del Gale. Compie 75 anni Giovanni Galeone che dice ho avuto le mie gioie ma meritavo una grande. Galeone il profeta del 4-3-3. Roma e Inter le mie occasioni mancate. Andiamo ancora avanti. Si parla del Pescara. Pescara in volo verso la Serie A. Ora serve il grande pubblico. Appello dei Biancazzurri alla città per riempire lo stadio sabato pomeriggio. Impressionante percentuale dei passaggi indovinati a Perugia. Pensate il 78%. Sabato come detto si gioca Pescara a Bari. Da Bari oltre 1.000 sostenitori. Vertice in questura. Questa mattina si saprà se la curva sud come dovrebbe così essere sarà destinata interamente ai tifosi pugliesi anche per evitare ovviamente una vicinanza fra i sostenitori delle due squadre. Poi mercato intesa con coda. Serve il sì della Sampdoria. E poi si parla di Lanciano. Virtus deferita. Lanciano incontro ad un'altra penalizzazione. Contributi pagati in ritardo. La decisione spetta al Tribunale federale. Ceduti Rozzi e Lanini. Penna al Sud Tirol. Il Foggia e su Ferrari. Dunque mercato soprattutto in uscita per il Lanciano. E poi il posticipo. Vedete il risultato di ieri sera nella sfida tra Livorno e Como. Botta e risposta. La sfida salvezza. Finisce 1 a 1. I gol nella ripresa per il Como. Pettinari ex Bianca Azzurra al 17esimo del secondo tempo. Il pareggio di Borghese al 28esimo. Tra l'altro Borghese che fino a qualche settimana fa militava proprio nel Como. E poi siamo al Teramo. La svolta è arrivata ma ora c'è il mese verità. Lega Pro 7 punti nelle ultime tre gare. Ora si guarda anche alla zona playoff. Con Sant'Arcangelo, Savona, Tutto Cuoio e Lupa Roma. Si decide per l'alta classifica. Si parla dell'Aquila. Bulevardi è da un passo. Anderson, Stivaletta e Ligorio. Tra i partenti. E poi il Chieti. Dunque Serie D. Panchina vacante. A Chieti la squadra spinge per il ritorno di Ronci. Che si è dimesso dopo la sconfitta di Avezzano. Questo pomeriggio alle 15. Attesa conferenza stampa a Chieti. Allo stadio Angelini. Del patron Giorgio Pomponi. E siamo all'ultima pagina di Sport del Centro. Si parla di basket. Cimo Rossi ci crede. McEnergy Roseto. Sei da playoff. Grande entusiasmo dopo la vittoria di Brescia. Invece a Chieti di Cosmo. Striglia la Proger. Dopo il K.O. Il presidente dice a Ferrara. Senza lo spirito giusto. Timori per il K.O. Infine la palla a nuoto. È stata presentata la formazione pescarese del club acquatico. Che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero. Pescara sale la febbre da Serie A. Il sesto successo di fila. Profuma di ambizione. Il momento d'oro del Deffino. Si basa sul grande equilibrio raggiunto dalla squadra. Verre oggi dentro fuori. Spunta Polak con Magnusson. Si parla ovviamente di mercato. E poi il tantam dei tifosi. Tutti allo stadio. Infine Lanciano. Per quanto riguarda ovviamente la Serie B. Arriva alla penalizzazione. Janktovic e Caro. Ancora avanti. Cruciani. Teramo. Un gol per il mister. Il centrocampista rivela. Neanche io so come ho fatto. La squadra sembra rigenerata nelle ultime tre giornate. E poi Dirti Soccer. L'Aquila attende con il fiato sospeso. Domani la sentenza. Prevista penalizzazione tra 10 e 20 punti. Serie D. San Nicolò. Una macchina praticamente perfetta. E poi in basso ancora Serie D. Avezzano. Lucarelli tiene i bianco-verdi con i piedi per terra. Amiternina a secco. Derby di domenica con il Giugnanova. Davvero da ultima spiaggia. E poi ancora Serie D. Parliamo del Giugnanova. In questo caso. Incasso a picco. La frattura con i tifosi. Meno di 1000 euro. Incassati nella gara con l'Agnonese. Poi in alto. Andiamo a vedere il titolo che riguarda il basket. Dalle scintille all'ex boi. Il fenofeno Roseto sorprende tutti. E poi ancora calcio. Ancora Serie D. In questo caso. Pomponi riflette. Il Chieti non può più sbagliare. E' da vedere se saranno confermate le dimissioni del tecnico Ronci. Tornando al basket. Galli. Proger. Con la pancia piena. Armod si ferma. Piace. Walker. E dunque siamo giunti al termine dell'edizione odierna di Mattino 6. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. E vi ricordo il prossimo appuntamento quotidiano con l'informazione come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.